...della Melanie e non quello del piede... Ah, adesso ho capito, dopo riposo... ...diposo che io farò la canna... ...passa la canna... ...ma prima così... ...Melani... ...eh... ...ma che cazzo... ...ma si guarda... ...prima trasforma lo cosco in una pinca... ...e poi... ...quasi... ...com'è che hai fatto? ...com'è che hai fatto? ...com'è che hai fatto? ...no, io non vado a comando... ...fisca la mia scatola... ...e la scatola... ...no, mi sto... ...dosta... ...dosta... ...io la schia... ...la schia... ...la con un martello... ...che mi uva sempre... ...ho caldo... ...e tieni... ...no, è il terrorista! ...esatto!